Musica Un risultato perché comunque vuol dire che state dando speranza, speranza di vita a molte persone, anche a molti nostri coetanei, a molti bimbi ed è una cosa penso bellissima, un regalo davvero grande che avete fatto oggi dedicandoci il vostro tempo. Io devo tornare subito perché vedo che ho altra gente in fila che si vuole tipizzare, continuate così, chi non si tipizza oggi, chi ci sta pensando, tornate presso i nostri centri trasfusionali, chiamate gli amici di Admo, raccogliete tutte le informazioni perché vedrete quanto semplice è salvare una vita. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie infinite alla dottoressa Parolo, ma la cosa più importante, venite qui, è che abbiamo battuto il record, perché a quanto siamo? Fermi fermi, circa più o meno? 38 sicuri, ma in realtà stanno andando avanti per cui è già in aggiornamento, andiamo tranquillamente verso i 40. Allora andiamo tranquillamente verso i 40, l'anno scorso le tipizzazioni erano state 24, quindi il record è stato battuto, brava piove di sacco, avete battuto il record, ma ci aspettiamo di batterlo nuovamente perché ci aspettiamo di andare avanti e poi ricordiamo l'appuntamento del 12 a Padova, è vero, davanti a Palazzo Moroni se non sbaglio. Andremo avanti tutta la settimana con altri eventi e vi aspettiamo tutti a Padova per rivivere il Match It Now anche in piazza Padova, quindi se avete voglia di continuare la festa con noi, se non fate a tempo perché dobbiamo chiudere a un certo punto, perché la dottoressa se no la facciamo fare gli straordinari, venite a Padova, venite ai centri trasfusionali, vi aspettiamo, non fermiamo questa onda del dono. Grazie a tutti! Grazie per la visione!